Corsi di nuoto, escursioni in mountain bike, le emozioni del parco avventura e della zip line, trekking in montagna, attività motoria e precistica, la sfida del soft air. Il conto alla rovescia è già scattato, manca meno di una settimana all'inizio del summer camp activity, l'incubatore di divertimento che porta la firma dell'associazione Mountain Lab. Per il terzo anno consecutivo Roccaraso sarà il paradiso dello sport per i più piccoli. Dal 2 luglio partiranno infatti le iscrizioni ai corsi, che quest'anno saranno più numerosi e ancora più qualificati. Mountain Lab schiera infatti una scuola di collaboratori altamente specializzati che per tutta l'estate saranno a disposizione delle famiglie che sceglieranno l'alto sangro per le vacanze. Il summer camp activity è uno dei progetti sui quali la nostra associazione ha investito di più in termini di impegno ed entusiasmo. I risultati sono stati molto positivi fin da subito, ha spiegato Gian Maria Fisco, presidente di Mountain Lab. Siamo giunti alla terza edizione ed ogni anno riusciamo a rafforzare collaborazione ed ampliare il menu dell'offerta tecnica per i più piccoli, affidandoli ai nostri tecnici che con passione e competenza promuovono lo sport in montagna in una logica di divertimento e di rispetto dell'ambiente. La base del summer camp activity sarà il platone di Roccaraso ma le attività coinvolgeranno anche le altre località del comprensorio a cominciare da Rivisondoli dove il bike park è ormai una realtà funzionale e consolidata.